Eccomi qua ragazzi, ci sono Massimo l'intervista a lunedì mattina. Stasera tutta ammenazza ragazzi, Inter Genova, la Juventus era persa. Ormai è palese che non si rufa più, però è chiaro che guardi un po' il campionato, guardi un po' la classifica e dici, cavolo, dovresti perdere la Juve, vuol dire allungare ancora, tutto quanto. Ieri la Juve ha perso, il distacco era già importante, adesso è diventato a bistare secondo me. 15 punti ragazzi, 15 punti. Dovessimo vincere oggi. 15 punti a 11 della fine ragazzi, è chiaro che ormai aspettiamo solo la consegna diciamo. Adesso io non so quando avverrà, però io personalmente, personalmente lo vorrei il prima possibile. Il prima possibile per un semplice motivo ragazzi, perché questi ragazzi qua stanno praticamente scrivendo la storia. Stiamo andando a vincere, a prenderci il ventesimo scudetto, la seconda stella. Io non so se vedrò la terza, sinceramente. Quindi è un momento storico, cioè i protagonisti me li voglio vedere in campo quest'anno, tutto il gruppo così com'è, da Arnautovic a Odeo. Cioè tutto questo gruppo qua che mi sta facendo veramente ragazzi impazzire, ma impazzire di gioia ragazzi, impazzire di gioia. Quindi vorrei vederli in campo per più partite possibili già campioni. Già campioni perché questa Inter qua è storia, è già leggenda. È già leggenda ragazzi, io sono entusiasta. Cioè non vedo l'ora di godermi questa seconda stella, questo ventesimo scudetto. Cioè sono in trepidazione, non vedo l'ora ragazzi. Non ci sto più dentro, non ci sto più dentro. Sono contentissimo, stiamo facendo un'annata della Madonna ragazzi, della Madonna. E niente, stasera a Almeazza, presente come sempre ragazzi. Prepariamoci a compiare di stagione con l'Inter campione. E niente ragazzi, forza Inter. Alla prossima. Ciao da Massimo l'intervista. Ciao a tutti ragazzi.